Cosa succede? Cosa succede? Hanno preso Zagnolo e Tonali? Gli hanno messi alla coglia. Che è successo? Non sento video su Tonali, su Zagnoli. Che è successo? E' 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 successo? Che allora non è solo fagioli? Che non li fate i video? Che giustamente quando c'è da contannare un calciatore della Juventus fanno tutti quanti i video? Non si fanno i video? Non ci vedete niente? Dove è scurto? E' scurto? Dove è scurto? Che non si fanno i video su Zagnoli e Tonali? Così non si fanno i video con la magra. E' successo? Che è successo? Beh, ora voglio sentire le teorie su Tonali, su Zagnolo. Però Fabrizio Corona voglio dire una cosa. Hai nominato calciatori di Juve, Milan, Roma. Caccio qualche nome della squadra di merda che tivi. O nessun interista scommette. Fabrizio Corona. Comunque lì l'Italia è veramente la giustizia. C'è la polizia. Siamo arrivati appunto che diamo peso alle parole di Fabrizio Corona. Guardate, vedete che paese ha lo spanto che è l'Italia. Comunque, Tonali e Zagnolo sequestrati dalla polizia. Mamma mia, che brutta figura. Mo facete i video. Ciao.